Ed eccoci qua su Cassette Beats, pronti a completare un'altra attrazione del molo di Brightside Dove, al quale non sono Perché sono in città, d'Arbortown Che dovevo fare delle cosine, sbrigare delle commissioni Per quello che andrò poi a fare nel post-game Vero e proprio, cioè il finale del post-game, non il post-game basta Ed eccoci da Gwen Gwen, vorrei comprare un altro biglietto per un'altra attrazione Andiamo a fare pass attrazione rosa Ok, quello rosa penso che vada qua, giusto? Eccolo qua Spasso Divertimento Ilarità Basta Allora Vediamo un po' Che succede? Aha Carino Questo posto è molto più grande di quanto sembrasse dall'esterno Eh già Direi di andare a Nel vuoto, a sinistra Perché cado sempre nel vuoto? A sinistra per cominciare Ah Ok Nice Qua c'è ancora il pagliaccio Devo arrivare là sopra immagino Il pagliaccio si mi segue ma non mi fa nulla Sta lì, mi guarda E mi dice Vuoi venire a giocare? E io gli dico No, certamente Allora Qua c'è una leva Che è bene non mancare Perché bisogna trovare Tutti quanti i biglietti aggiuntivi Per sbloccare poi Una cosa Una cosa che vedremo Poi Eccolo qua Perfetto Quindi quello è sbloccato ora Altrimenti prima non era sbloccato Che tra l'altro Non ricordavo neanche Dovessi venire qua giù Così di prepotenza Senza neanche andare a vedere Cosa c'era sopra Sto andando Sto andando letteralmente a caso Nastro in pelle di serpente Il nastro in pelle di serpente Credo sia il mio nastro preferito Perché è viola Non lo so Mi piace il nastro viola Così Allora Questa è fatta Quindi No Ok Andiamo di qua L'entrata per Diciamo La macchina Quindi Non Non era importante Aspetta Qui dove si va In alto Ok Aiuto Ok Dovevo portare qualcosa Mi sa Da sotto Non ne sono Ah no Da qui Carino però C'ero quasi Dai C'ero quasi Allora Prendiamola Mamma mia Che paura Per cascarsi Che lì si è caduta Ma Ok Ah A parte posso volare Ecco quindi Io me la sto complicando io Più di quanto non serva Allora No Qua si va avanti Quindi Aspetta Ecco qua Devo andare qua sotto Mamma mia Che fortuna Ah Però devo portare quello Che sta là sopra Mannaggia Ecco qui Fatto Un altro biglietto Yes Come da programma Opla Qua non c'è altro No perché non vorrei Proprio mancare nulla E siamo tornati Qui Allora scusami Facciamo una cosa bella Andiamo anche di qua E dovremo Esserci Credo Ah Me lo ricordo Questo Ok ci siamo Ora Ora questo qui Gira Leggermente più veloce Degli altri Ma non è un problema Un altro biglietto premio Come è giusto che sia E che salta Accidenti Opla Olè Fatto Dovrei averli trovati Tutti Credo E una volta Che apriamo Tutti e tre I posti Eh no Ce ne manca uno Invece Ci manca questo Di qua Perché Sì è caduto Scusami Bene Ah ok Ah ancora questo che gira Uffa Questo gira Ah oh cavoli Si scivola anche Ok Cerco un attimino Di stare E qui Così Buono Ok Appena tocco terra Subito riparto Con il volo Iassa Oh Ok Ah Di là Ok ok Bene 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 Si Eccoci qua Ben nascosto Questo è Ben nascosto C'è un motivo però Se l'aria ti manda Così in alto No Perché lo farebbero Se no Senza motivo Beh Non credo proprio O come direbbe un poeta Non penso proprio Comunque Ultima Porta illuminata Quindi possiamo Andare Appena ci avviciniamo Si apre Mmm Nice Quanto fa caldo Qui Non ho combattuto Neanche una volta Quindi sono carico Al massimo Credo Un altro arcangelo O motore Dipende Da quello che vogliate Chiamarlo Macchina infernale Rosa Macchina del caos 51 Io ho aumentato La difficoltà Però È poco così Ma me l'ha scalato Io penso che non me l'abbia scalato Non posso neanche fuggire Per aumentarlo ancora di più Si vede che proprio Sono Non sono Loccati Dai La difficoltà non può essere Loccata qui L'ho aumentata apposta L'ho aumentata Vabbè Facciamolo così Dai E Voi direte Ma il video è corto Potresti fare anche L'altra attrazione No Perché l'altra è più lunga Eh Quindi volendo Verrebbe un video Molto più lungo Di quello che vorrei Ma penso a caricarmi E a fare un bel muro d'aria Con Kaylee Caricarmi i punti abilità Intendo Con Con Gin and Tonic Ora lui dovrebbe arrivare Il prossimo Non questo turno Ma il prossimo Ha Quattro Al massimo Di potenza Aia Draganna a benzina Eh Ora c'è Comunque si abbiamo Non abbiamo più il muro Ok Non ho neanche il caffè da dare a Kaylee Per farle fare Allora facciamo così Riavvolgo Kaylee Per proteggerla Al massimo Dici bella E con lei faccio comunque schiva Vorrei proprio evitare Di prendere danni con lei Oh Rimborso Meno male Perché gliel'ho messo In granaggi I rasoi fanno male Ok tre Ok Meno male Solo tre colpi Faccio ancora sputo Con Link Potrei Farla sporca E fare colpo alla testa Ma lo voglio fare davvero Colpo alla testa Pim pum pum Ah Niente Ah eccolo qua Colpo alla testa No facciamo Gintossicazione Dai E con lei Sputo Buono 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 Sì La sto Prendendo un po' Sotto gamba Rimborso PA Eh vabbè Il gioco vuole Che io faccia colpo alla testa Ma non lo farò Troppo facile Se però arriva la fusione Che arriva la fusione Magari Potrei decidere di farla La fusione Ma non lo so Un altro muro d'aria Per poter algerci Dall'attacco In granaggi i rasoi Che poi A chi lo fa Lo fa Però penso che lo faccia A Kayri Onda di energia Aspetta non consuma niente Eh no Ti pareva Ah Ok non l'ha fatto Cannone di vetro E vuoto sonico Vediamo un po' Quanto gli facciamo Ok non male Non male Prende risonanza Lo finisco con risonanza Sputo con Gint and Tonic E sputo con Kayri Che gli fa appunto Un danno Da risonanza Perché gli attacchi vento Sui mostri Vetro Anche con la copertura Quindi funziona benissimo Prendono danno da risonanza E finiamolo con risonanza Allora Nooo Copertura glitter Come l'ha scampata Come l'ha scampata Per un attimo Ok Ti è andata bene eh Vediamo un po' Se lo finiamo in questo turno Però lo stesso Dai con Uragano Penso di sì Fa 90 Uragano Pure rimborso Più a me non serve È andato comunque Ah no Gint and Tonic Ci rimane No Maledizione Però prende punti lo stesso Per fortuna Tutti i mostri Anche se vanno K Prendono punti Punti Che poi punti no Perché Derisione Non è Granché Maledizione meccanica Riflette All'utilizzatore Tutti i danni Le frecce Di strato Inflitti Da mosse Attivate Da altre mosse passive Ah tipo Il Quando viene intinto E L'avvelenamento Le scottature Bello Tutte le passive Respinge Che bello Potrebbe essere utile Su ingranario Specialmente Mi viene sempre sciolto È messo fuori Su un'altra Di quelle diaboliche Macchine per me A nome del molo Di brightside Di me più luminosi Ringraziamenti Non è qualcos'altro Da dirci su queste macchine Gwen Hai Costruito tu le macchine Sì le ho costruite io Avrebbero dovuto Gestire il molo Senza rime Ma le cose Non sono andate Esattamente secondo i piani Una volta che saranno Tutti fuoriose In sicurezza Potrò capire Cosa è andato storto Sono certa che riuscirò A farle funzionare Come si deve Ok Beh allora direi Che l'avventura Per oggi è conclusa Non male però Sto posticino Cioè Aiuto Allora io al momento Ho esattamente Quante Ho sette Passi Passi Passa Trazione verde Ne costa quattro Io ne ho sette Quindi stiamo andando bene Me ne rimangono tre Poi Ma ne devo trovare Altri Cinque Qua dentro Probabilmente Va bene Allora Amici direi che Per questo video È tutto Me ne vado un attimino Qua sopra A contemplare il tutto Vi ringrazio Per aver seguito Questo episodio In descrizione Trovate come sempre Tutti quanti Link utili Nel prossimo video La casa della strega Terza e ultima attrazione E poi vedremo Il quarto episodio Cosa ci porterà Perché Sono quattro Di episodi Da fare Per il DLC Poi L'episodio Dopo ancora Dopo quello Dell'ultimo DLC Ci sarà il postgame Finale Un solo episodio Dovrei riuscire A finirlo Con un solo episodio Quindi Direi che ci mancano Tre Massimo Quattro video Per Cassette Beast Se poi finisce la serie Beh Detto questo Ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao